Il Milan non vince, il Milan fa la storia. Il Milan non vince, il Milan fa la storia. Il Milan non vince, ma fa la storia. E se non vince, come cazzo fa la storia? Erano più simpatiche le conferenze stampa di Pioli, era più simpatica. Era preparato almeno Pioli, ma questo qui, spago bottiglia, ammazzo famiglia. Ma si vede che è qui solo per ciullare soldi, non gliene frega niente. Questo qui è senza Dio, non ha un Dio questo qua, è solo soldi. Immagine e basta. Che cosa ha vinto? Qualche scudetto? Il Milan non vince, il Milan fa la storia. Ok, va bene. Intanto prenditi i sei sfrang di quelli.